Eccolo qui facciamo partire anche il video commenta all'ottantottesimo e quaranta ma tanto ormai è finito il girone finisce tutto la Juventus passa seconda nel girone e ci sta ci sta perché se uno dovesse chiedere come vi dicevo prima qual è la squadra più forte di questo girone qual è la squadra più forte fra le due ragazzi ma non scherziamo proprio è il Chelsea bisogna riconoscerlo è una squadra più forte cioè non bisogna né sentirsi umiliati sì perché quando vai nella Champions con un giocatore come Bentancur sì devi sentirti umiliato però rimane il fatto che comunque il Chelsea è veramente forte cioè stasera per come ha giocato il Chelsea avrebbe dato delle noie a tutti a tutti solo che il Bayern Monaco avrebbe retto l'urto forse anche senza problemi la Juventus no non è in grado la Juventus di reggere a una squadra che gioca così un Chelsea che ha fatto una partita veramente bella ha concesso perché in Champions si concede le grandi squadre concedono anche tranne il Bayern Monaco non concede nemmeno però onestamente la Juventus non ha saputo sfruttare l'unica buona azione allora il primo tempo è stato anche equilibrato 5 minuti dal rembaggio del Chelsea una buona occasioncina della Juve buone ripartenze ha tirato fuori la testolina il Chelsea ha abbassato un po' la cresta sembrava quasi quasi di poter riavere la gara d'andata no? con la Juventus che faceva i suoi contropiedi il Chelsea che iniziava a cagarsi sotto e magari il gollettino magico di un chiesa finora appannato ma il copione è stato purtroppo molto molto diverso il Chelsea a differenza nostra che abbiamo battuto un calcio d'angolo col solito schema stupido li batteva seri batteva bella palla al centro oh De Winter cross a Spiliqueta il giovane contro l'esperto faro laterale per noi questo De Winter mi è piaciuto però ma dopo ne parliamo e il copione è stato diverso il Chelsea ha battuto i calci d'angolo bene ne aveva anche battuti tanti De Winter prova la magia e si guadagna un altro faro laterale comunque purtroppo il calcio d'angolo c'è un po' spiazzati però c'è stata anche la reazione poco dopo c'è stato quel salvataggio sulla linea di Tiago Silva un ottimo Morata nel primo tempo personalmente lui e i McKennie sono quelli che mi sono piaciuti di più e vabbè noi gli eventi si è detto vabbè dai potremmo mamma mia Arturo che tiro da fuori mamma mia questo è un altro che secondo me è molto sopravvalutato sto ragazzo pure oggi è fatto una cazzata assurda a un certo punto a madre mi importa Timo Werner non so che dirvi anche sto Arturo boh vabbè comunque tornando a noi la ripresa è cambiato tutto io avevo soltanto detto sempre sull'1-0 la Juventus forse era convinta di poterla gestire la partita non la può gestire la partita doveva giocare al massimo dell'intensità per trovarsi sotto di una rete se abbassi l'intensità ciao il Chelsea la cosa bella che ha giocato con meno rabbia del primo tempo meno ma io quello dicevo dicevo ragazzi sto vedendo il Chelsea che presta di meno attacca di meno soffre di meno corre di meno ma gioca meglio e ci sta mettendo sempre più in difficoltà un crescendo totale del Chelsea oh bella azione adesso qui dell'Evo tutto di prima che bello Ken che se ne potrebbe quasi andare prova addirittura una ciofeca di tiro di sinistro peccato una bella azione un'azione tutta in velocità della Juventus al 92esimo mi è molto piaciuta McKennie ha fatto una partita veramente bella 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 ecco questi sono i punti da cui ripartire in un centrocampo del genere ti porti a casa un Locatelli che pure tutto sommato ha fatto la sua partita un Rabiot che io continuo a dire è un ottimo panchinaro nel senso che è un giocatore che non sarà mai un grande titolare però ogni tanto qualche contrasto se lo vince fa una buona copertura ha cercato di coprire un po' tutti lì al mezzo metterci un po' di fisico eccetera ma per il resto ragazzi mamma mia bentancurro guardate io non ho parole comunque tornando a noi quindi il Chelsea l'ha vinta l'ha meritatamente è stato più squadra poi ha avuto quei 5 minuti lì ma anche meno io ho segnato 55-57 la grafica metteva 55-58 ma il Chelsea è stato devastante non ci ha fatto capire un cazzo in quei minuti lì l'eventus completamente in bambola abbiamo perso proprio tutto abbiamo perso l'orientamento poi Allegri a questo punto se l'è giocata coi cambi ha fatto fare anche un po' di minuti a The Winter mi piace questo ragazzo secondo me è uno che con un po' più di esperienza farà le sue gaffa farà i suoi errori farà le sue robe ma comunque onestamente mi sembra uno di quei giovani sui quali si può anche investire visto soprattutto che non abbiamo i soldi estensore che forse arriva il quarto di Timo Werner no addirittura cruisura bellissima di De Ligt e quindi niente gli ultimi 90 secondi ce li passiamo insieme ma quello è vorrei specificare perché ce l'ho tanto con Bentancurro proprio lui e non altri tanti hanno giocato male stasera ovviamente anche Alessandro autore di una gara piuttosto opaca sulla sinistra adesso più sul finale ha fatto qualcosina in più ha sbagliato lui nella chiusura sul gol di James sul secondo sulla destra ovviamente abbiamo sofferto perché quadrato non è un vero terzino si è beccato un'ammunizione nel primo tempo per essersi fatto saltare da un gigantesco azzonodoi è vero però lui ha sempre quel qualcosa in più nei giocatori che hanno in meno Bentancurro perché in quella gaffa a centrocampo ancora una volta appena viene pressato non verticalizza bene uh McKennie qui fa la prima cazzata della serata ua che avevo detto il gol di Timo Werner oh me lo so chiamato ma perché parlo ma perché parlo se mi so chiamato pure il quarto gol di Timo Werner vabbè ci stava comunque forse è persino più sincero a questo punto questo risultato qui che l'altro comunque vabbè mettiamo 4 a 0 del Chelsea la Juventus che concede il primo del girone ma ci stava eh credo che credo che sia anche finita qui l'abito fa benissimo a chiudere qui comunque ci stava perché la Juventus deve innanzitutto pensare all'Atalanta più che pensare ad altre cose e poi per il resto vediamo soltanto se era regolare un attimino che eh qui McKennie ha sbagliato lui sa che forse è fuori gioco o forse il piedino di The Winter lo tiene in gioco però vabbè dai ormai era più un allenamento che altro i minuti finali tra 0 4 a 0 cambia poco però ripeto è un peccato è un peccato perché poi dopo esce Bentancurro e ti entra eh Artur ed è un altro anche lui ha fatto un'altra cazzata e io mi dispiace rimarcarlo ma io ho visto che anche dopo la gara di Verona nessuno è andato a sottolineare quanto Artur avesse concesso il gol al Verona il primo gol di Verona cioè io abbiamo questi centrocampisti che proprio regalano vale che fanno cazzate colossali peccato è una squadra che ogni tanto fa anche qualcosina di buono si vede qualche buona azione come quella lei di cui vi parlavo prima col tiro c'ho fega di Ken però manca proprio quella consistenza bella al centrocampo e è un Juventus che soffre tanto il mercato eh sì senza scesi n'era 7 a 0 bravo anche questo vabbè dai comunque niente si diceva si diceva vabbè ragazzi ma il primato del girone serve a poco che ci frega del Chelsea puntiamo all'Atalanta sperando che questa parentesi Champions sia quella che sia cioè concediamo il primato del girone al Chelsea vaffanculo la Juventus adesso non può più andare a parità ehm di numerica di punteggio col Chelsea deve assolutissimamente sperare se volesse passare prima e di vincere in casa e sperare che il Chelsea non vinca praticamente cosa che sarà abbastanza impossibile e quindi la Juventus va seconda non significa nulla significa nulla il cortomusio vabbè ragazzi ma ci sta a perdere contro i campioni d'Europa a casa loro eh ma adesso non facciamo una cosa che la Juventus stasera doveva vincere 3 a 0 perché sennò facciamo i tifosi che ancora pensano di avere non lo so pensate di avere in squadra Davids, Zidane del Pirettore non so chi pensate di avere in squadra cioè la Juventus è inferiore a Chelsea cioè non c'è niente di male capito? è come un tifoso dello Stoccarda che va a giocare all'Allianz Arena del Bayern Monaco e perde 4 a 0 e dice ah facciamo schifo abbiamo una squadra di merda eccetera eccetera l'allenatore te ne deve andare ma ci sta a perdere contro una squadra che è più forte di te cioè bisogna entrare nella mentalità che all'alienz Arena del Bayern Monaco non è una squadra forte abbiamo dei giocatori che sono molto deboli e stasera era lecito perdere 4 a 0 è un'umiliazione va bene si è messa così è arrivato pure il quarto gollo sul finale che ha arrotondato ancora di più il risultato ma poi cambia poco onestamente ma fa niente l'importante è l'Atalanta spero che cioè sia una parentesi che non venga vissuta male che la squadra sia adesso tutta proiettata al campionato capito? quello è importante ha tenuto botta nel primo tempo è crollata nel secondo si è vista una grande differenza tecnica atletica eccetera e quindi sì va bene ragazzi 4 a 0 è arrivato al 94esimo per una palla così perché è stata spizzicata male da McKennie ha fatto una gaffe peccato ha fatto la gaffe Bentancurri ci sono salvati l'ha fatto Arturo ci sono salvati l'ha fatto il migliore del centrocampo McKennie abbiamo preso gol comunque dai comunque dai comunque è così va bene è finita finita in questa maniera ci sta ogni tanto va bene non ho capito perché vi state tanto disperando del 4 a 0 cambia poco onestamente a me non piaceva neanche il 2 a 0 umilazione o non umilazione la partita è persa nel pratico cambia poco fa niente l'importante è passare il turno l'umilazione è non passare il turno detto questo comunque l'Atalanta l'avevo lasciata che stava vincendo con lo Young Boys bene così la squadra è questa che è vediamo fin dove riusciremo ad andare avanti e poi sarà quel che sarà sarà quel che sarà da secondi nel girone possiamo beccare adesso di tutto anche i mostri sacri ma noi tanto siamo abituati anche a uscire col porto quindi non vedo qual è il problema dai non è una partita che merita oltre 10 minuti di commento quindi stacchiamo qui va bene ci vediamo prossimamente mi raccomando fate i bravi buonanotte a tutti ragazzi ciao buonanotte